Noi siamo la Sports Service, che è un'agenzia di servizi e in collaborazione con la Lube di Civitanova e il volley potentino portiamo la palla a volo che conta di Serie A e di Superlega qui a Ischia. Alberto Giuliani, allenatore di Piacenza, di A1, vincitore di tre scudetti negli ultimi sei anni, e Fabio Fanulli, libero di Latina, verranno al camp ad allenare i ragazzi della Campania. Quindi tutti i ragazzi del Sud Italia potranno essere allenati da un allenatore di A1 e da un giocatore di A1 e far sì che fare un'esperienza di altissimo livello e portiamo noi la palla a volo che conta qui in Campania. Spesso le squadre delle Serie A pescano dal bacino del Sud, perché tantissimi giocatori sono del Sud e che vanno poi a giocare nelle squadre del Nord. Da noi c'è una ragione anche di cuore perché io sono calabrese d'origine, quindi mi piacerebbe portare la palla a volo che conta al Sud e questo secondo me è un ottimo viatico per poter far sì che la palla a volo al Sud si possa evolvere. Il nostro obiettivo è cercare di fare una settimana tipica della Serie A, quindi facciamo mattina e pomeriggio allenamento e inseriamo, visto che siamo in una località bellissima come Ischia, e grazie al presidente Raymond Ambrosino che ha sposato il nostro progetto facciamo sia allenamenti tecnici che allenamenti di beach volley. Il divertimento è chiaramente una parte che è al di fuori dalla palestra, perché in palestra si lavora duramente sotto gli ordini di Alberto Giuliani e quindi si lavora esattamente come in Superlega. Quindi i ragazzi di prima divisione Serie D, Serie C possono lavorare esattamente come lavorano i grandi campioni. Noi lavoriamo su Facebook e i nostri contatti possono essere tranquillamente trovati sulla pagina Master Volley Camp su Facebook, oppure all'indirizzo info-sport-alto-service.biz.